Ciao ragazzi ben ritrovati all'interno di questo nuovo video di StumbleGuys dopo il video di ieri nel quale sono andato a provare i trucchi da voi consigliati Oggi sono qui per mostrarvi quelle che sono secondo me le skin migliori, diciamo le idea skin migliori di questo gioco Perché? Perché all'interno del server Discord di StumbleGuys che è accessibile appunto a tutti sono state fatte varie proposte di skin E questo sicuramente mi ha reso abbastanza interessato all'argomento e sono qui appunto per andarvene a parlare nel modo più chiaro e sincero possibile Voi mi raccomando però come al solito iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like e dagli è tutto ragazzi Mi raccomando voglio una bella condivisione di gruppo su questo canale e attivazioni delle campanelle E spaccate tutto ragazzi, spaccate tutto, dagli, dagli, dagli Stambolino Gaisello, ci colleghiamo sul mio server Discord, ok? Non è il mio server Discord, è il server Discord del, diciamo del, del gioco come vi ho detto E quello che è interessante andare a vedere sono le idea skin Come si fanno andare a vedere? Una volta entrati all'interno di questo server Discord basta andare nella sezione skin ideas, ok? Entrate nella sezione skin ideas senza nessun tipo di problemi e qui troverete un sacco di skin Create dagli utenti e commentate dagli stessi utenti che potrebbero arrivare da un momento all'altro all'interno del gioco Ne voglio prendere un po', questa qua è la prima skin, una skin del principe In realtà non mi fa né caldo né freddo, potrebbe essere sicuramente più interessante E infatti non è, diciamo, piaciuta troppo Questa skin qua invece è piaciuta, una skin per Halloween, è stata proposta la Skeletron Che fa parte di quel gruppo di scheletri, cioè abbiamo già lo scheletro bianco, abbiamo lo scheletro verde Insomma, sarebbe un ulteriore aggregarsi alla serie degli scheletri, secondo me non male Il Cave Bigfoot potrebbe essere sicuramente renderizzato meglio, ma in se per sé l'idea non è neanche malvagia Quella che invece reputo sicuramente molto 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 caruccia E eventualmente una skin di questo tipo, una skin dell'orso Che secondo me manca, avete presente la volta, avete presente l'altro Questa è una skin sicuramente fatta male, ma l'orso marrone secondo me non è assolutamente brutta State poi caricate altre immagini un po' randomiche E questa è molto molto interessante Per coloro che giocavano a Fortnite, non so, dato che faccio questo esempio perché io ho giocato molto a Fortnite Non so se avete presente la skin della calciatrice Ebbene, mi ricorda un po' quello stile lì, quella skin sportiva che all'interno di un videogioco mobile manca E quindi perché non portarla, porcaccia ragazzi, io sono pro le skin sportive Quindi se qualcuno di voi vuole effettivamente sviluppare una skin 3D per dare a StumbleGuys La carichi poi nel server Discord e dai, dai, dai Questa qua è l'altra idea di un'altra skin Diciamo per Halloween che fa parte come quella dello scheletro In questo caso abbiamo il panda rosa E poi abbiamo altre skin molto molto randomiche Come ad esempio questa qua dello stambecco O questa qua sempre sportiva, molto molto caruccia Gli mettiamo i like, quelli che fanno le cose un po' più carucce Andando invece nella parte delle mappe ideas Ci sono anche altre cose Che voglio però andare poi a portarvi all'interno di un video apposito Non voglio rovinarvi tutto Quindi tenete attivata la campanella Mi raccomando per non perdervi altri video Voi comunque andate a recuperare i vecchi video qua nelle schede cliccabili Ragazzi ce ne sono un sacco che potete andare a recuperare senza nessun tipo di problema Se qualcuno di voi ha voglia di andare a vederle ragazzi Ha la possibilità di andare Questa skin qua è quella che ha ricevuto, una di quelle che ha ricevuto più like Una skin del robottino rosso Molto 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 caruccia Insieme a questa Questa qua ragazzi Bitch buggy l'hanno chiamata E devo dirvi, devo dirvi che Al su perché Cioè guardate com'è fatta Da vicino effettivamente è molto molto caruccia Perché no? Perché no? Nel senso non è, non c'entra effettivamente troppo con Quella che è l'idea del gioco Ma perché no? Non è neanche così malvagia come idea Anche una skin di questo tipo potrebbe Essere interessante La skin del parrot Mancano un po' di skin Degli animali Ma queste erano le principali skin ragazzi A vostra disposizione Attualmente Che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni Le migliori skin ideas Fatemi sapere voi cosa ne pensate Se le trovate belle Oppure no Comunque detto questo Per non perdere troppo tempo In altre cose Poco utili Volevo dirvi anche altre cose Ok? Perché ho scoperto anche che All'interno del All'interno del gioco Ok? Ho sbloccato ulteriori Ulteriori cosette Ok? Quindi Ve le voglio far vedere un attimino Allora Mettiamo la schermata giusta Se voi andate a vedere All'interno del pass numero 7 Ho sbloccato una nuova emoticon Che volevo andare ad unboxare con voi L'emoticon Rossa Che Andiamo subito ad impostare Perché guardate un po' l'emoticon Volevo andare a togliere Questa qua della piagnistea Per mettere questa qua Dell'arrabbiata Secondo me è un po' più caruccia E dà meno fastidio E l'AI Naturalmente lo togliamo Perché mi sono rotto le balle Di utilizzare l'AI Questo qua è il mio Dispositivo dal telefono Vi ricordo che se volete sapere Come si collegano i dispositivi Lo trovate nelle schede cliccabili Qua in alto Ho fatto il tutorial Un po' per tutto Questi sono anche tutti I vari Tornei Che ci sono da fare Che non ci sono da fare Valutate voi quale fare Quale non fare Insomma ragazzi Di cosa Stambolgaes ce ne sono da fare Devo dire che il gioco In sé per sé Ho visto che sta facendo Dei grandi Dei grandi numeri Quindi GG A Stambolino Gaisello Per il lavoro che sta facendo A livello proprio numerico Ok Reputo comunque Il gioco molto interessante Sotto questo Sotto questo punto di vista Mi raccomando voi Fatemi sapere nei commenti La vostra Come al solito Perché per me è molto importante Ascoltare anche la vostra La vostra opinione Per quelli che mi hanno chiesto Riguardo al negozio Riguardo al Al mio poi Armadietto Voglio mostrarvelo Ve lo mostrerò Tra pochi giorni Quindi recupererete Comunque Il 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 video Dell'armadietto Tra poco Non manca effettivamente Molto Farò un video Proprio incentrato Soltanto sull'armadietto E Voglio farvi anche un video Su come si ottiene Il pass Gratis All'interno di Stambolgaes Perché C'è un piccolo Metodo caruccio Che secondo me Ha senso D'andare D'andare proprio A farci un Un video a riguardo E commentate Mi raccomando Qua sotto Con le idee Di altri video Perché appunto Reputate Reputate interessanti Ecco Il video come al solito Termina qua Io spero che vi siete Rivertiti E spero che il video Soprattutto però Vi sia piaciuto Perché questo è importante Noi come al solito Ci vediamo domani Per coloro che non lo sanno I miei appuntamenti Sono abbastanza Facili da ricordare Io faccio video Tutti i giorni Alle ore 14 Quindi molto Molto Più easy Del previsto Tutti i giorni Vieni qua sul canale E trovi un nuovo video Del Vap Mi raccomando però Ti aspetto anche Sui miei vari social Trovi Instagram E TikTok Qua sotto in descrizione E mi farebbe molto piacere Anche eventualmente Che tu mi iniziasi A seguire Anche su Twitch O eventualmente Facendo l'abbonamento Con Amazon Prime Che ti ricordo È gratis Quindi maledizione Non puoi farti perdere Quest'occasione Ti aspetto su Twitch Ciao bello Ci vediamo domani alle 14 Ciao 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 Grazie a tutti.